Miasmi, fumi, nauseabondi e persino malori. La situazione era stata segnalata anni fa dai residenti dell'area attorno al Sanzificio Sirolli. Un appello raccolto e adottato dal sindaco di Poggio Fiorito, Remo D'Alessandro, che ha ingaggiato una battaglia culminata ora nel sequestro dell'impianto. A mettere i sigili sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Pescara, a seguito del provvedimento firmato dal giudice Andrea Di Berardino su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Giancarlo Ciani. Il plauso all'operato della procura è arrivato dal legale del comune di Poggio Fiorito, l'avvocato Marco De Merolis. Ma insomma è un problema ambientale e anche di salute pubblica o no? Esatto, sì, soprattutto un problema ambientale perché è un problema che si trascina ormai dal 2021. Questa è stata la seconda ordinanza sindacale adottata dal sindaco di Poggio Fiorito, che è il dottor Remo D'Alessandro, perché ormai si andava a deragliare verso aspetti che non è soltanto di tutela del singolo cittadino, ma di tutela di un valore di rilievo costituzionale che è il valore ambiente. Perché è importante oggi questa svolta che vi è stata? Perché è da lestando che è un sindaco di frontiera, si è caricato sulle spalle anche quelle che sono state le difficenze, una latitanza da parte di altri organi che dovevano intervenire. Mi riferisco alla Regione Abruzzo e all'Arta perché qui c'è un'autorizzazione unica ambientale che fu rilasciata precedentemente nel 2015-2016 alla Sirolli, che prevede qual è l'autorità di controllo la Regione e l'Arta qual è l'autorità che deve effettuare questi controlli sul territorio. La situazione è stata già segnalata da tempo da parte del sindaco, questi enti sono stati latitanti. Il sindaco è stato costretto ad adottare un'ordinanza nel 9 novembre 2022 che è successivamente a fare una serie di esposti alla procura che finalmente dobbiamo anche andare a ringraziare il procuratore e il GIP che hanno forse capito che diventa un problema di tutela dell'ambiente. Gli indagati sono illegali, tanto non c'è più su questo aspetto il seguito istruttore e pubblico, sono l'amministratore legale che è la signora Giannico Anna e c'è il figliolo che è il signor Sirolli Giuseppe che di fatto è l'amministratore. Non si indaga più soltanto, e questo è un aspetto fondamentale, che è il rappresentante legale di una società, ma si indaga anche chi va a prendere le scelte gestionali perché in materia di tutela ambientale c'è un figlio fondamentale che chi inquina paga. Noi abbiamo fatto una denuncia a novembre, quindi ha fatto i suoi accertamenti, ha chiesto questo sequestro preventivo, è stato accordato dal GIP e quindi crediamo che ci sarà una conseguenza, ci sarà un appello, un riesame da parte del Tribunale ma siamo convinti che esisterà questo impianto accusatorio che si fonda sui accertamenti seri fatti dai carabinieri, sempre a seguito della stura data da parte del Sindaco.